tra fotovoltaico, batterie, così noi nelle parti dei video in cui l'abbiamo citato dal canale youtube lo colleghiamo. Questo è il funzionamento di un impianto con il fotovoltaico. Il fotovoltaico produce energia elettrica praticamente. Allora uno dei requisiti minimi è il fatto che comunque se fai il fotovoltaico e vuoi usufruire del bonus 110 non puoi pensare di fare il fotovoltaico, mettere le batterie e non collegarti alla rete di distribuzione, che viene chiamato GSE, è obbligatorio. Se fai questo devi dare la possibilità di cenere l'energia che tu hai prodotto anche alla rete. Diversamente ti dico, lo faccio per me, lo faccio in maniera autonoma, non mi collego alla rete, cosa che tra l'altro caso potresti anche fare, ma non potrai beneficiare di questo bonus. Quindi conviene darla via. Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi la mail che trovi in Vidascalia. Ciao!